In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la capitale italiana della cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo. Tra i sostenitori della capitale italiana della cultura 2024 c'è anche la fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro che ha voluto sostenere l'anno da capitale all'insegna della cooperazione. Missione e compito della fondazione Cassa di Risparmio è quello di sostenere e promuovere il benessere del territorio. Ovviamente di fronte a un avvenimento come la capitale della cultura 2024 noi non potevamo essere assenti. Per il valore del riconoscimento che è stato dato a Pesaro e quindi il valore del riconoscimento di una vivacità, di un'intelligenza, di un'iniziativa che vive nella nostra città e nelle tante iniziative culturali di cui la città è testimone e protagonista. E poi ci interessa nell'idea della capitale della cultura l'idea in qualche modo di una diffusività, di una partecipatività della cultura. Per cui noi abbiamo deciso di in qualche modo modulare il nostro intervento di sostegno in due parti. Una prima parte che è stata di... che ammonta a 250 mila euro, quindi uno sforzo importante, sono stati finanziati 19 progetti che riguardano 34 comuni e questo è estremamente significativo. Vuol dire che abbiamo aiutato a, come dire, alla diffusione, alla partecipazione, alla fruizione di questo avvenimento nell'intera provincia. Poi il secondo aspetto è stato caratterizzato da un altro significativo intervento finanziario di 150 mila euro che abbiamo destinato direttamente alla città di Pesaro. Una visione, quella della fondazione, che guarda ad un futuro di collaborazione tra i comuni per dar spazio e voce anche a quelli più piccoli. La nostra realtà periferica è una realtà ricca ma anche piccola e l'idea che noi abbiamo lanciato era proprio quella di consorziarsi, di trovare relazione. Per cui 34 comuni si vedono in qualche modo rappresentati da 19 iniziative, con soddisfazione di tutti. Questo speriamo che sia un germe anche per il futuro. Deve rimanere nel futuro questo tema di una partecipazione culturale viva, ma dovrebbe, speriamo che possa rimanere nel futuro, anche il tema di una collaborazione in maniera tale che anche le realtà più piccole possano trovare la possibilità di esprimersi e direi che si possa ritrovare il gusto di costruire le cose assieme. In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la capitale italiana della cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia, condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo.